Ho pensato di fare questo video per farvi vedere cosa succede, come fare quando il lavandino è atturato Praticamente ho svitato il tubo che era sotto il lavandino e ho tolto al meglio quello che c'era I tubi sono con una pendenza quindi praticamente poi sono andato nel tubo laterale che vedete E di là ho trovato un bel tappo Quello che vedete in questa brocca è tutto ciò che c'era depositato nello scarico Purtroppo queste cose succedono dopo anni, infatti in questo caso erano sei anni Tutto quello che vedete è ciò che c'era e che non faceva scorrere l'acqua Quindi era proprio un tappo completo di tutto sostanzialmente Tra farina, impasti e qualsiasi cosa possa passare nella piletta di scarico Quando poi rimontiamo il tutto ricordiamoci sempre delle guarnizioni che ci sono e che vanno messe Altrimenti poi perderebbe dell'acqua Ripeto, è stato fatto un lavoro approssimativo perché era sostanzialmente sera tardi Questi andrebbero smontati tutti e sciacquati per bene Quindi bisogna poi rimontare il tutto Facendo attenzione che gli incastri vadano bene Mi raccomando alle guarnizioni Una volta montato il tutto asciugate il tubo e verificate con un po' d'acqua se ci sono perdite o meno Poi ho continuato a smontare gli altri incastri e ho continuato a togliere l'altra melma Ma chiamiamola così, guardate Attenzione alla guarnizione sempre E praticamente c'era tanta tanta melma Ripeto, sono sei anni di lavandino utilizzato Quindi tutto ciò che c'è dentro sono residui vari Ecco Questa operazione è stata un'operazione molto superficiale fatta di sera Per risolvere il problema dell'acqua che non scendeva Che cosa farò ora? Butterò del mister muscolo e lo farò agire, lo lascerò agire per 12 ore E poi prevedo, quando sarò un po' più libero, magari di smontare tutti i tubi E di pulirli in maniera perfetta, diciamo Quindi proprio di sciacquarli in un altro lavandino, chiaramente, in una tinozza Spero che il video vi sia stato utile Ricordate sempre di mettere le guarnizioni così come erano E di stringere adeguatamente i tubi Fate una prova sempre prima di pensare che sia tutto ok